Credo in un solo odio è una macchina drammaturgica, un congegno drammaturgico molto semplice e al tempo stesso molto complicato. È la storia parallela di tre donne. Queste tre donne fino dall'inizio sanno che andranno a morire nello stesso luogo, nello stesso giorno per un attentato in Medio Oriente. Grazie.